Sono Peppino Udace e oggi vado a fare un video sul giocatore del momento dell'Udace Cerniola che è Tipas Krapikas il portiere dell'Udace Cerniola parlando di lui ed è un ex portiere di Spezia e Ternana, ha giocato alla Ternana lo Spezia l'anno scorso è un portiere che insomma oggi è uscito anche l'articolo sulla Gazzetta dello Sport parlando di quello che gli sta succedendo in questo momento a Cerniola e Cerniola è cambiato è diventato un portiere molto più forte, è diventato un portiere importante quindi insomma quello che sta facendo e sta comunque piacendo anche a me questo portiere l'ho visto anche allo stadio contro il Benevento e quattro partite che ha i clean sheet ha parato il rigore contro il Monterosi è un portiere che sta facendo veramente la differenza è un portiere importante lo classifico veramente secondo me è uno dei migliori portieri che forse abbia avuto l'audace Cerniola nella storia sarà comunque fatto molto bene l'anno scorso però io penso che Crappicas stia veramente crescendo partita per partita quindi lo metto veramente tra uno dei portieri secondo me più forti della serie C del girone C ci sono comunque portieri importanti nella serie C del girone C anche il portiere del Monterosi molto bravo tra che è finito nel giro della nazionale però insomma quello che sta facendo Crappicas in questo momento anche Paleari del Benevento però quello che sta facendo Crappicas è veramente importante l'ho evidenziato anche nelle storie di Instagram oggi però insomma volevo fare un video su di lui evidenziando quello che sta facendo magari fatemi sapere portando magari i giocatori Malcore Tascone Russo quelli che sono i miei giocatori preferiti ma oggi parlo di Crappicas perché sta diventando anche lui il mio portiere preferito tra che io tengo perché insomma calcetto gioco in porta è perché mi è sempre piaciuto il ruolo il ruolo del portiere ma sicuramente a Natale magari proverò a farmi questo regalo di prendere la maglietta di Crappicas perché da quest'anno nello store dell'audace Cerniola ci sono anche le magliette dei portieri sia quella verde sia quella arancione ma io voglio quella magari verde perché mi piace quella verde quindi vedremo se riuscirò a prendere la maglietta di Crappicas è un altro portiere sponda Satanelli che mi piace è nobile anche lui un portiere importante però insomma anche lui vero sta facendo molto bene nella girone C della serie C già l'anno scorso giocava nel Foggia però quest'anno è migliorato tanto quindi insomma fatemi sapere anche tifosi satanelli tifosi dell'audace commenti Crappicas o Nobile chi preferite tra i due sondaggio ragazzi iscrivetevi al canale mettete la attivate la campanella sempre cerco di soddisfare i video magari possiamo fare una sfida i due portieri che ho citato o adesso magari Tonin e Malcore o Leonetti e Embolo Embalo vediamo tra i due giocatori delle due squadre rivali che sono Odacia Cegnola e Foggia ci vediamo poi per i prossimi video domani forse uscirà la Formula 1 il Gran Premio del Canada e poi inizierà il primo episodio vita da allenatore FC24 con Giuseppe Matera ci tengo a portare Peppe Matera perché l'ho detto anche negli altri video per me è una persona importante per quello che sta facendo mi è riuscito a portare giù in Puglia per me è diventato una persona importante nel cerchio della mia vita lo sta facendo tolto che da anni che è con mia cugina ma tra che hanno anche una figlia ma lui per me sta diventando una persona importante ci sentiamo tutti i giorni porterò anche un episodio su Giuseppe Matera perché insomma tengo a sottolineare che è una persona importante per me finisco con il video di Crappicas e quindi ci vediamo per i prossimi video anche episodio vita da ballerina EP2 con sarà un episodio sorpresa probabilmente Alessia Paggi sarà la prossima ballerina che porterò quindi ci vediamo per i prossimi video per i prossimi per i prossimi